Un seminario di formazione dedicato ai docenti su come leggere le immagini, ma anche la presentazione del volume manuale del filmmaker Scrivere, Produrre e Distribuire. Giornata sondriese su invito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio per Monsignor Dario Edoardo Viganò, presbitero, accademico e scrittore italiano, per tre anni prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e ora nominato da Papa Francesco, Assessore del Di Castero per la Comunicazione. Il cinema è racconto di territorio, di cultura, di storie, valorizza appunto anche delle competenze e credo che sia molto interessante seguire anche il desiderio di molti giovani che si accostano e vogliono fare filmmaker, quindi vogliono scrivere una bella storia, scriverla per immagini, produrla e anche distribuirla. Il cinema come la letteratura devono avere uno scopo, una finalità pedagogica, educativa? Ma credo proprio che sì, certo c'è il gusto di leggere e il gusto di vedere un bel film, ma è anche vero che sia i testi letterari che i testi audiovisivi, il cinema, hanno sempre un grande risvolto sociale. Pensiamo ad esempio alla grande lezione del neorealismo, come abbia in qualche modo introdotto a comprendere i temi e ciò che stava avvenendo nel momento dopo il secondo conflitto mondiale. Dopo la lezione ad autorità e docenti nella splendida cornice della Sala dei Balli del Credito Valtellinese di Palazzo Sertoli, Monsignor Viganò alla presenza del prefetto di Sondrio Paola Spena, con al suo fianco il dirigente dell'ufficio scolastico Fabio Molinari, il consigliere regionale Simona Predrazzi e il presidente del BIM Alan Vaninetti ha illustrato il suo nuovo libro. La telecamera è qualcosa che seduce sempre molto, credo che rendere tutto pubblico sia un problema, leggevo proprio in questi giorni alcuni articoli in cui si diceva in maniera anche un po' paradossale quando i bambini nascano si lamentano perché dicono i genitori nasciamo e voi ci avete già rubato la nostra privacy perché tutti i genitori mettono le foto dei bambini piccoli, i video dei bambini piccoli, quindi in rete sappiamo che è tutto sempre pubblico oltre che essere in qualche modo anche poco opportuno e a volte pericoloso. Don Dario è veramente un maestro nel suo campo, è una persona che ha delle competenze altissime nell'ambito videotelevisivo, nell'ambito in realtà di tutti i mezzi di comunicazione, credo che dobbiamo essere solo che fieri di aver potuto avere quest'ospite così illustre, ci auguriamo che non sia una presenza estemporanea ma si possa dar vita anche ad una collaborazione un po' più continuativa.